Oggi la fatidica data d'inizio dei bagni nel lago di Varese. Giornata calda è l'ideale, ma l'affluenza non è stata incoraggiante. Pochi si contano sulle dita di una mano coloro che hanno deciso di barcare la riva per entrare in acqua. Solo un paio di bambini, poi un signore con un cane. L'assalto dei bagnanti è rinviato e nell'attesa c'è anche qualcosa da aggiustare. Scoprire, ad esempio, i cartelli che segnalano la balneabilità del lago. Per la cronaca questa è la terza estate con il lago di Varese tornato balneabile.